allora salve sono caterina e vorrei presentarvi l'azienda skyward community allora per chi che ancora non conosce sono caterina da toshwili con le qualifiche del investore leader della società skyward community sono mamma di tre bambini e di qui due sono studenti abbastanza affermati che ha una grande gioia per una mamma emigrata sono emigrata da quattro anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro ho esperienza di lavoro in strutture statali 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nelle settore delle vendite e dei servizi e io sono una specialista certificato di lingua italiana livello a 2 non sto facendo esami in università vedrico secondo di un mediatrice sociale culturale culturale europeo e allora avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community skyward che si è sviluppato in francia in georgia polonia germania spagna e israele con l'aiuto del mio team in soli tre anni sono stati investiti oltre di 30 mila dollari e tutto è successo grazie alla comunicazione online e allo stesso tempo del suo sviluppo l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati attualmente la specialità più richieste altamente pagate in cui il mio team attualmente coinvolto puoi immaginare che prima del 2014 persone non stavano investendo letteralmente in nulla c'era solo un'idea e in grande disinteressato lavoro del creatore di questo progetto e ora ti presentiamo skyward community opportunità di offerte commerciali e allora il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà signor nato iunezchi con una storia di sviluppo di 45 anni la proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari ed è dopo di 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato del mercato e lo stesso nato iunezchi ha già 74 anni ed è sicuro che al 1000 per cento che tutto questo si rialgerà nel corso della sua vita e lui non ha rifiutato realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo e allora per chi che siete collegati prima volta vi dico che skyway è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono skyway di altri modi di tempi di strada trasporto la struttura linea sky si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano ecosistema i bacini idrici foreste rimancono di tratte allora il trasporto skyway è controllato da un'autopilota ciò riduce il numero di potenziali incidenti e l'aerodinamica del trasporto skyway consente di raggiungere velocità fino a 500 km e anche la costruzione della struttura struttura linea sky richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto e quindi quando costruisci linea sky consumi meno 20 25 volte meno finuvie perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio versare acqua e rompere le rocce per costruire questa strada sono necessari sono soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su sky transport e fornire servizi di consegna un trasporto più veloce e per qui esistono tre tipi di passacorde ridici semiridici ed elastici ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario anche c'è un stabilimento in centro di innovazione sarja e minsk dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono un dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio a 100 anni di garanzia e allora come sappiamo quando un'auto accelera ad alta velocità deve fare i conti con l'aria flusso d'aria in arrivo si chiama resistenza aerodinamica il nostro sky transport e milla volte più sufficiente più facile da gestire e grazie allo scafo affilato in grado di raggiungere velocità di 500 chilometri potresti chiedermi ma perché non usiamo un'auto ibrida però anche con la sua visualità questo trasporto ti dice che come comodo sarà utilizzare allora ok quando usiamo un'auto ibrida allora si serve sempre in pratica a collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia che prima e quindi crea danni alla natura allora è per qui che abbiamo molto trasporto e ci sono le strade sappiamo che le strade sono la congestionate dall'auto che con la loro emissione possono causare inquinamento e molto malattie purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa dei problemi nei incidenti e negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 signor antoni uneschi scienziato inventore proteggista di navi volanti presentò il suo primo articolo scientifico dopo cinque anni di ricerca sulla atmosfera che in cinque anni l'atmosfera era molto inquinata allora continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste la circolazione ha causato da decenni problemi strada sovrafolata mancanza di sicurezza e dispendio di energia colossale per i propri interessi e i propri obiettivi l'umanità abbiamo danneggiato la natura e i paesaggi stiamo abbattendo le foreste porosciugando i fiumi foreste e bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali ecco qui allora ok ritorniamo allora in pratica utilizzare utilizzando questo progetto trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza e più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria questo è il motivo per cui sky transport e il trasporto necessario è più richiesto nella storia dell'esistenza umana e allora un attimo ci abbiamo un sito mamma mia ok da posto allora c'è anche un sito uneschi punto engineer dove può vedere un elenco è completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor nato di uneschi a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro ecco vi dico che ogni partner della società sky world community è in una posizione ereditizia quindi qui è possibile firmare un successore e anche ricevere a entrare aggiuntive dal programma di partner e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessanti a il vantaggio e il fascino allora nella nostra azienda sta in sta nel fatto che una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati e firmati e allora è sicuro che in pratica è molto utile anche molto comodo economico e ecologico e per chi è molto importante ecologia ecologia ora penso che sostenete al progetto allora quando decidi allora entrare nella nostra azienda e stare un e diventare un pezzo di questo progetto allora i tuoi diritti sono i reati ai dividenti guadagni dal programma partner ereditarietà disposizione su una restituzione del denaro diventi un comproprietario di tecnologie partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come finaltro poi crei capitali per una vita spensierata hai la possibilità di viaggiare attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è importante molto importante per te il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e allora personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120 mila dollari per da soli milla dollari cosa che non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto e per me che l'azienda skyward community è diventata il senso e il supporto della mia vita e allora ok la cosa è importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e ecolo tecnopark è stato realizzato in operativo in bella russia nella città di marina corca e nell'imera di arabi uniti in particolare città di sharjah nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli all'università americana degli emirati arabi uniti allora c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 chilometri intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto a linea stringa del futuro allora per me e per i molti partner si è diventato ancora più credibile che l'italia sia tra i 200 paesi partner io sono orgogliosa che ho questa possibilità di offrirvi un progetto globale così utile e necessario per tutto il mondo e per tutta l'umanità quindi già lo sviluppo tecnologico è disponibile per tutti lo sviluppo tecnologico è sempre stato e sarà un progetto irreversibile il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua acquisizione di azioni e noi diventare con proprietà di tecnologie innovative ecco qui sulla nostra pagina sulla nostra piattaforma dopo che fornisci verificazione l'azienda ti offre allora pacchetti azionari specializzati per la tua famiglia per i bimbi per i studenti avrai molta opportunità di decidere come puoi continuare con questa azienda e allora trovare tutti i diritti anche allora giuristici la società skywood community è stata registrata in inghilterra in isole vergini come società europea nel 2014 pertanto i diritti del single co partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea allora ok inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato e dopo la registrazione della società allora le sue fasi di sviluppo sono state soddivise in 15 fasi ad oggi già abbiamo completato la quattordicesima fase l'anno scorso e in quest'anno da 10 maggio abbiamo cominciato la quundicesima fase e allora si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti si già quest'anno società skywood community l'anno scorso scusatemi è stata introdotta con il nome cambiato tecnologia delle stringhe uneschi e allora il trasporto esiste davvero si adatta a tutte le condizioni climatiche il suo corpo è resistente alle radiazioni colverte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità e ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio e anche ti dico che l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario allora di questo progetto questo è un grande conforto per noi quindi il produttore e creatore il signor Antonio Junetsky presenta sempre una relazione annuale del suo lavoro svolto la nostra azienda anche ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come mutuotario però tuttavia allora ti dico che tuttavia se qualcuno dovesse lasciare azienda con questa richiesta però questo precedente non è stato finora rilevato quindi da questo progetto non fa nessuno allora questo è una cosa intelligente materiali ecologicamente puliti automatizzati dotati di energia solare questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signor Antonio Junetsky che ha avuto l'idea di costruire città lineari dove servirà il trasporto skyline a stringa i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati e questa è la nostra salute sopravvivenza come l'immagine mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quanto è pulita l'atmosfera e noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo ad alta velocità sicuro e facilmente integrabile e soprattutto ecologico e allora questo trasporto funziona tramite solari e la nostra azienda già produce qualche tipo di questo trasporto anche ti dico che funziona tramite solari pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare in elettricità e lavorando praticamente senza sosta in termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostante nocive non esistono e quindi nessun danno per la natura non causa i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli già esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto maritimo tereste e aereo e tutti tre causano inquinamento della natura e creano danni alla natura e allora ti devo dire ancora i nostri profitti quando entri nella nostra azienda allora hai i ratei i dividendi allora abbiamo i ratei i dividendi guadagniamo dal programma di partner abbiamo e possiamo dare eredità disposizione sulla restituzione del denaro anche diventiamo proprietari di tecnologie e partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passiamo alla storia come fino a troppo e possiamo creare capitali per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai è attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è molto importante per noi tutti è il motivazione per cui entriamo nella azienda il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e allora UNESCO allora si presenta come un proteggista del mondo nuovo sicuro che orgogliosamente sono piena di emozioni e ho possibilità di presentarvi un progetto così utile e necessario e anche possibile di realizzare anche in Italia è un ingegner mondo nuovo allora e dove è già realizzato questo progetto si vede chiaramente quanto ha pulita l'atmosfera e allora vi faccio vedere alcuni tipi di questo trasporto ad alta velocità Unibus per esempio che può raggiungere velocità a 500 km e con la sua capacità che per un direzione può spostare 24 persone e però con la sua produttività può spostare fino a 500.000 passeggeri al giorno una bella cifra no? e allora Unibus può raggiungere velocità a 150 km e con la sua produttività fino a 50 passeggeri al giorno anche Unicar può spostare 50.000 passeggeri al giorno con la velocità a 150 km e abbiamo anche merci per costruire il mondo nuovo sicuro e non causare sulle strade traffichi e muoverci senza sosta e dare la possibilità di altro trasporto muoversi senza problemi e senza sosta allora trasporto urbano Unibus ancora con 150 km con la velocità e può spostare ancora 50.000 passeggeri al giorno e questo è il ritmo di mondo nuovo che allora sviluppo tecnologico più accelererà e tutti i servizi questi quadri di anni più velocemente saranno disponibili allora anche i luoghi che anche per ora sono disponibili le montagne che dove ancora non camminano i trasporti normalmente per Skyway è sempre disponibile e questo progetto possiamo allora realizzare non guardando condizioni climatici e allora ok per farsi allora ciò accada ho bisogno del posto coinvolgimento e di quante più iscrizioni possibili per sostenere questo progetto quindi realizzando questo progetto in Italia sarà molto utile per noi quindi così possiamo creare condizioni più favorevoli in direzione del turismo quindi allora questo progetto è molto utile è necessario quindi la pandemia di Covid-19 ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico che è un risparmio per noi per il nostro pianeta allora implementato in questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio muoverci molto più velocemente portiamo con noi i ratei dei rividenti e viaggiamo in Italia o in qualsiasi paese sognato e allora tutto era questo cosa volevo dirvi mi fa piacere che ho la possibilità ancora e ancora presentarvi questo progetto molto globale unico ecologico e facilmente integrabile e realizzabile sì e vorrei vedere presto questo progetto già realizzato in Italia allora questo era una azienda Skyward Community con le sue perte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica dell'investore leader di questa società grazie per l'attenzione e potete e avete possibilità o soffrire di rate interni a tasso zero sul pacchetto azionario e vi consiglio che non perdere il tempo per ottenere maggiore informazione e fornite subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per darti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa e allora questo è il nostro progetto io sono Caterina da Toshueli e vi saluto con tanti buoni amori grazie per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione